Rispettare tutti i patti sottoscritti tra aziende e lavoratori 14 giorni fa, ore decisive per i 105 lavoratori della Maus di Campodarsego, venerdì nuovo incontro a Padova. Al tavolo il commissario nominato dal Tribunale, i vertici aziendali, i sindacati e i lavoratori, questi ultimi attendono dall'azienda il rispetto degli accordi riguardanti il pagamento delle spettanze dipendenti. In caso contrario, da lunedì i lavoratori sono pronti a una nuova mobilitazione, in attesa che dal 1 gennaio parte la Cassa Integrazione straordinaria.